E' morto con la convinzione di aver fallito in tutto. L'ha fatta per quella, quella che era fuori dalla chiesa. Era lei a farlo stare male. Stava lavorando a un libro. Era convinto che questo libro lo avrebbe risarcito. La pregherei quindi di cercarlo fra tutti gli scritti che ha lasciato. Lei è l'unica persona che abbia la possibilità di farlo. Mi ha lasciato una cosa molto importante da fare. Una cosa che posso fare solo io. Mi fei paura. Tuo padre parlava di te come se parlassi di un genio. Non sei contento di vedermi? Pensavo che non l'avrei più risentito. Mi ha detto che c'è qualcosa da leggere. Ma posso ripoterlo fare? Mi costerà una fatica enorme. Ma so anche che io e te ce la possiamo fare. Ti voleva bene. Perché non me l'hai mai detto? Che cosa l'ha chiesto mia moglie? Bisogna che troviamo il resto. Buono! Vedi qui c'è tutto. Tutto quello che sarebbe al genio per creare quello che qui non c'è. Cioè? Capolavoro. Questa era un asunto. Mmm... Grazie a tutti.